Anticipazioni Grande Fratello 2018 Stasera, doppia eliminazione e un ritorno Grande Fratello 2018, anticipazioni e diretta semifinale Stasera, ecco cosa succederà. Stasera 29 maggio ritorna in onda su Canale 5 L'appuntamento con il Grande Fratello 2018 condotto da Barbara D'Urso Quella di questa settimana sarà una puntata molto attesa dal pubblico dato che sarà trasmessa la semifinale del reality show giunto alla sua quindicesima edizione di Messa in Onda in TV Una serata ricca di colpi di scena che sarà caratterizzata da una doppia eliminazione finale. Seguite la semifinale del GF 15 con noi qui su Blasting News, seguiteci per scoprire cosa succederà. Stasera la semifinale del GF 2018, via due concorrenti Come vi dicevamo stasera dovrebbero essere almeno due, ma potrebbero essere anche tre, i concorrenti a dover essere eliminati dalla casa del GF 2018 ad un passo dalla finalissima della prossima settimana. Ormai il cerchio si sta stringendo e questa sera conosceremo anche i nomi dei finalisti che si sfideranno con Simone Coccia per la conquista del premio finale. E poi ancora questa sera ci sarà una graditissima sorpresa per la figlia di Bobby Solo, la quale finalmente riceverà notizie da suo padre dopo anni e anni di silenzio e guerre legali. Non mancheranno le sorprese e gli incontri anche per gli altri concorrenti che sono in nomination questa settimana, così come ci sarà un clamoroso ritorno in casa di un ex concorrente che ha ancora qualcosa da dire. Ciao!